Sono chiamato? Sono l'uomo più chiamato del mondo. Non c'è l'uomo più chiamato del mondo. Le spose vengono per gli sportelli delle macchine per le forze che come si fa a pigliare l'autobus per andare a pigliare l'aeroplano. Non c'è l'uomo più chiamato del mondo. Ola Pino! Daniele è una malagrassina. Una malagrassina, vai. Non c'è l'uomo più chiamato della scuola di loteria. Che si fa? Benicio tu. Stai a vedere, non si fa benicio. Ma che ti sta facendo? Ma madonna cani, ma ho fatto sé. Tanto un paio, tanto un paio. Non c'è problema. Posso fare anche le linguagge, tanto non viene. Giro. E' da belicisiste fai. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.